Io sono Jacopo Buroni e ho fatto l'anno scorso il Master in diritto del lavoro. È stato un Master molto interessante, a mio parere, perché comunque venendo da un ambito molto diverso, io provengo da studi umanistici, vengo da filosofia, ho avuto modo di vedere sul campo quella che è stata un po' la mia ricerca in ambito di laurea vera e propria. Un Master molto interessante perché è strutturato in maniera, secondo me, intelligente, nella misura in cui non c'erano soltanto professori, ma anche professionisti del mestiere, quindi gente che aveva a che fare tutto il giorno con il mercato del lavoro. Da un lato la preparazione teorica in aula, dall'altro il tirocino finale sono sicuramente serviti per creare comunque un bagaglio molto spendibile all'interno del mercato del lavoro attualmente e spero anche in futuro. Grazie a tutti.